Beh, certamente sì, anche se non è il primo. Sicuramente la società sta pianificando e sta cercando di riportare in alto l'Inter dove merita. Ci vuole un po' di tempo, speriamo che questo campionato dia molta soddisfazione ai tifosi e alla società stessa, con la scelta soprattutto di questo allenatore. Ce l'ho, però come ho detto prima ci vuole un po' di tempo, un po' di programmazione e pianificare per bene il futuro, perché non è facile, soprattutto in una squadra di calcio, lottare contro il tempo. In Italia senza risultati non vai da nessuna parte, ma ci vuole un progetto e credo che Suning lo stia facendo.